Ma perché non mi si apre brutto s*****o? Io vado a pisciare Ah, è così, ve lo mi diretto? Ma buon salve fortunati aspettatori e benvenuti in questo nuovo video E oggi siamo qui su Minecraft Wow, che bello Stiamo aspettando un ospite, intanto vorrei entrare nel server Praticamente dall'ultima tragica morte Sapete, praticamente quelli dell'Isis ci sono nudi da cercare Belli raga Oh, guarda che bel piccone Ok, possiamo prenderli E io li volevo prendere quel piccone fortuna Due, tre Tre diamanti, vado a farmi un piccone lì Sì, dietro Va bene allora, ci tocca giocare a split screen Volevo mettere i quattro schermi Solo che ho due comandi a caricare Quindi praticamente vi dovete servire lo split screen almeno per adesso Cosa facciamo oggi? Una bella Non lo so Un riccone di pietra che c'ho Potremmo andare in miniera eh, però Io stavo continuando a scavare questa roba, è vero? È un po' troppo grande Ma c'è un po' troppo grande No no, è perché voglio fare proprio un'area così 32x32 Anzi no, interfaccio tante Perché si trovano più facilmente diamanti E nel metri mi faccio anche un botto di materiali Ah è vero, io stavo scavando qui Solo che giustamente Che c'è la lava? La lava che io ho chiuso C'è la chiaia adesso vaffan bene Ah eccola qui la nostra lava nazionale E vieni qua Dove stai scusa? Eh io sto facendo quel tunnel famosissimo per trovare diamanti Ovvero il 32x32 enorme Così mi faccio anche un botto di materiali E tipo sai che sarebbe un'idea andare a trovare il drago E gli andiamo a fare un saluto E da tanto che noi lo visitiamo Il drago Gli portiamo dei biscotti Il drago Il drago Il drago Eh The Ladder Si E' lui che ci sfornaglia gli Enderman che ci rubano le robe Quindi un po' di gratitudine E a trovare gli portiamo dei biscottini Non mi sa che non basta Sì Anche perchè questo è un buchetto però non è che ti da subito fuori Quindi non è Ah proprio hai fatto la mega roba qua Ok Allora io ti vado a prendere un po' di link Oh no Oh no Oh no Vado a prendere Sita Oh Un Kenya Oh siiii Vedi che conviene fare questi tunnel Arrivano aspetta Voglio esplorarlo con te Vedi una via di lava Sai che cosa significa? Cosa significa? Io avanti Oh L'ho salvato il pezzo di ferro Dove che stai? Ops Sai che sei un buio per il piccone Dove hai scavato Marco? Ecco lì Ah Sono te che ho trovato queste cose Non lo spiego Già un buio Già un buio Già un buio Già un buio Ok 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 Lo sapere Lo sapere La 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 lalala c'è un buio di carbonge C'è uno di staffe qualcosa c'è uno mi siete mancati amigoni sali è un ordine non sei troppo pirla per salire ciao tu sei sono sopra di te ok questo è un pietra muschiosa ciao zombie no no aspetta aspetta c'è veramente un d'angelo buono facciamo una farm ma certo vieni ti faccio la oh mio dio non dovevo questo video ha un senso finalmente vaffanculo non cadiamo addio sono troppi prima di tutto non cadiamo ecco l'acqua ti ha salvato l'acqua un mio di blocco come fai a venire qui uguale marco molto zombie è bloccato dall'altra parte dice che ce ne sono altri ciao amico ma trova a ma mi fai male uguale ma sei un pezzo di schifo a pro gesto respirazione barbapietola lei mi lasci un pezzo di barbapietola si lo lascio qua un cd maleditions che schifo mamma mia vabbè l'importante che abbiamo la barbapietola tu scagli per di là io scavo per di qua c'è un creeper attento ci rincontriamo stranzetto l'altra volta non sei rifiuto a ammazzarmi segno d'acqua a me al posto della palla facciamo così metto il secchio d'acqua sta scappando ops ciao mi metto il secchio d'acqua accanto così se cado oddio pensavo fossi una scala ho detto ecco la mia vita è finita e invece oh non colpisce è immobile è immobile ciao attaccalo dai ora esplode a occhio ciao ops qualcosa mi dice che non avrei dovuto non avremmo dovuto oh che devo qualcosa nell'ombra foghi mi servono per la sopa allora no no un altro di zombie un altro mi hai trovato l'oro oh mio dio marco marco ma non ci sono matti marco mi dovrà dare una mano una mano una mano priscali cerco di non perderci come no 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 ok mi sei che ti serve una mano allora allora io non ho paura di voi potresti non morire oh ma persi luridi ma ci abbiamo due d'angelo qui però oddio sto avendo delle perdite di memoria qui c'è una doppia cesta e che ci da gatto, pane due name tag qui mi sa che si cade ok trovo del contenuto del canyon no dobbiamo torno a casa Marco ho troppa roba nel mio inventario allora ragazzi per questo video è tutto vi lascio like e condivido il video se continuiamo su quest'onda quindi verso le 30-40 visualizzazioni a video mi va benissimo e continuiamo altrimenti se non vi interessa chiudo noi ci becchiamo in un prossimo video bella ragazzi iscriviti al canale grazie a tutti